Nuovo aggiornamento amici con le previsioni del tempo. Situazione meteo ancora non del tutto stabile sull'Italia a causa dell'anticiclone situato sui paesi più occidentali del nostro continente il quale lambisce soltanto la nostra penisola. Atteniamoci tuttavia ancora qualche nota di stabilità nella giornata di mercoledì 24 maggio concentrata maggiormente sui settori alpini e appenninici. Con l'ausilio della grafica accanto vediamo dove saranno possibili le piogge e i temporali. Al mattino condizioni di tempo stabile soliggiato su tutta l'Italia, da segnalare solo delle nubi in transito sulle regioni settentrionali e tra la campagna Basilicata e Calandria dove non si esclude la possibilità di qualche fenomeno in tarda mattinata. Nel corso del pomeriggio addensamente nuvolosino aumento sulla catena alpina e su tutta la dorsale appenninica con piogge e locali temporali. Tempo più stabile e per lo più soleggiato invece lungo tutte le coste italiane. Attenuazione dei fenomeni inserata sulle Alpi e sugli Appennini, da segnalare soltanto qualche debole pioggia tra Veneto e Romagna e notata anche tra le Marche e l'Abruzzo. Concludiamo dando lo sguardo alle temperature. Valori previsti nel lieve aumento sia di giorno che di notte su tutte le regioni eccetto sulla Calabria e sulle due isole maggiori con valori più stabili. Anche per oggi abbiamo concluso con le previsioni del tempo a cura del Centro Meteo Italiano. Recevi gratis tutti i giorni le previsioni per la tua città. Scarica dai store dedicati e dal nostro sito la nuova App Meteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.